Acli e Arci della Toscana dicono basta slot machine e videopoker. Nonostante le cosiddette macchinette mangiasoldi, servono spesso a fare quadrare i conti e a finanziare le iniziative dei singoli circoli, Acli e Arci hanno deciso di metterle al bando, evitando così di ritrovarsi con clienti che arrivano a spendere interi stipendi e in qualche caso addirittura rovinarsi a causa della dipendenza dal gioco. Il problema dei mancati incassi comunque sussiste, ma le due associazioni hanno già pronto il rimedio tornando all'antico, all'organizzazione di cene sociali, feste, sagre e iniziative serali. Bisogna aiutare a far sì che non si arrivi a queste assurdità di rimetterci addirittura stipendi interi in una situazione che come sappiamo è molto difficile. Uno dei primi circoli in Italia a bandire slot machine e videopoker dai propri locali è stato quello Arci di Casale, frazione della zona sud-ovest di Prato. Anche in questo caso l'obiettivo è stato quello di bloccare una deriva pericolosa di dipendenza dal gioco di alcuni clienti e restituire dignità e un ruolo sociale alla casa del popolo. Per dare una certa educazione ai giovani e ai ragazzini che frequentano il circolo di vedere persone che in questa macchinetta anfilavano monete, soldi e soldi non credo che si dava una certa educazione all'interno del circolo. È un fatto per me di civiltà, di etica e di valori. Grazie. Grazie.